Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, buongiorno a Walter Cherubini, consulta Periferie Milano Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati Ci ritroviamo in un luogo abbastanza particolare di Milano ma molto simbolico perché abbiamo via Padova alla nostra destra, il Naviglio Martesana, il terzo Naviglio di Milano diciamo alla nostra sinistra e qui inizia quello che adesso viene definito il quartiere Adriano ma che a tutti gli effetti è Crescenzago Crescenzago, siamo nell'antico comune di Crescenzago Esattamente, dicevo sulla sede del Martesana dove si sono insediati gli antichi comuni allora greco-milanese, Gorla, Precotto Allora vediamo se si è imparato, qui c'è Crescenzago, dietro a nostre spalle c'è Gorla Gorla, esattamente Precotto sta da quella parte di là, Turro un po' più in là Già aggregato nel 1918 e poi abbiamo Greco-Milanese ancora più avanti Ancora più avanti diciamo E un quartiere appunto importantissimo Siamo appunto sull'est Qui siamo sull'est di Milano Appunto con il Naviglio della Martesana alle nostre spalle Stiamo praticamente camminando in quello che una volta era a tutti gli effetti un comune a parte, non era Milano Esattamente e ci avviciniamo anche all'edificio che ospitava la sede dell'antico comune di Crescenzago Su questo poi adesso ne parleremo perché abbiamo anche degli ospiti che ci aspettano proprio lì davanti Ricordiamo la storia un attimo velocemente, 1923? Noi abbiamo una costellazione di comuni attorno all'antico comune di Milano che occupava 76 km quadrati Con il 14 dicembre 1923 c'è l'aggregazione di altri 11 comuni che partono appunto qui da Crescenzago Ma poi si spostano a Lambrate, si spostano a Chiara Valle Milanese, Baggio piuttosto che Musocco, Trenno E una costellazione di 11 comuni che portano il territorio milanese da 76 a 181 km quadrati Che è quella attualmente la pianta di Milano Coggio Sono i 181 km odierni con dei piccoli aggiustamenti nel 1924-1925, aggiustamenti territoriali Ecco, questo è lo scenario geografico amministrativo che cambia completamente la struttura della città Cambia completamente la struttura della città in elemento positivo Che è quello di, se Milano è attrattivo oggi, lo dobbiamo anche alle scelte di 100 anni fa sicuramente Nello stesso tempo però avviene un cambio amministrativo gestionale sul territorio E cioè tutte le sedi, anzi tutte le amministrazioni comunali Qui abbiamo appunto l'edificio dove ospitava il sindaco E allora vediamolo, vediamolo, vediamolo Eccolo qua, allora questo era l'edificio, era il comune di Crescenzago Cioè se abitavi a Crescenzago venivi qua a fare le tue pratiche, a chiedere le cose, giusto? E quindi dal punto di vista della gestione della comunità di Crescenzago Delle attività del sindaco, cioè qual era la priorità di questo sindaco quando usciva di casa? Era esattamente il Martesana e i dintorni Questa era la priorità Eccoci qua Oggi, che cos'è che accadde 100 anni fa? Che tutto venne trasportato a Palazzo Marino Dove è ancora adesso? È chiaro che la modifica strutturale, che il sindaco di oggi di Milano Come fa? Qual è la sua preoccupazione? Walter, però aspetta, devo fermarti perché sono arrivati due persone Che insomma, dobbiamo ovviamente presentare E perché proprio qui davanti? Perché sono il sindaco e l'assessore di Crescenzago? No, ma quasi No, ma quasi mi sa, eh E allora devo benvenuto a Giuseppe Bresciani Che sono il presidente del corpo musicale di Crescenzago Quindi quasi il sindaco, diciamo, alla fine della fiera E Giuseppe Natale dell'Ampi di Crescenzago Presidente, sì, dell'Ampi di Crescenzago E dell'associazione Di otto associazioni Casa Crescenzago Capite che se non è il sindaco e il vice sindaco Quasi ci siamo, eh Quasi il governatore e il vice governatore di Crescenzago Certo, quello che è importante da sottolineare è che Giuseppe Bresciani E qui abbiamo per esempio l'ultimo libro che parla di Crescenzago E parla appunto di Giuseppe Bresciani tra le altre cose Che fa il fabbro a Crescenzago Ma è il presidente del corpo musicale di Crescenzago Che è attivo dal 1894 E ci sta comunque, c'è un collegamento Cioè qui a continuare a battere il ferro si tiene il ritmo, giusto? Quindi la banda... Ma siamo artisti, no? Come fabbro mi sento artista Come corpo musicale sono tutti maestri e artisti Perciò è un connubio, no? Ecco, l'importante è anche questa Perché noi vediamo un po' gli antichi comuni come muri Invece no, ci sono realtà vive Come il corpo musicale di Crescenzago Che appunto la sua storia attraversa questo cambiamento Dal 1894 oggi al 2023 E allora è una ricchezza di tradizione Che mano a mano si è consolidata Si è anche aggiornata Ed è un punto di riferimento per capire la realtà di Milano Perché altrimenti Milano non ha storia Noi pensiamo che chi abita oggi a Milano Il 50% circa della popolazione non abitava 15 anni fa Quindi ci sono dei cambiamenti enormi E quando si dice la nostra ambrosianità Ma dov'è che la troviamo la nostra ambrosianità? Se non esattamente in tutte quelle realtà Che presidiano ormai anche da più di 100 anni il territorio Se non aiutiamo quelle finisce l'ambrosianità E allora andiamo invece a conoscere meglio Allora magari vediamoci un po' qui all'interno O voglio rimaniamo ancora all'esterno Per capire bene un attimo la situazione Allora io so che questo è uno dei vari ex comuni Che ci sono ancora a Milano Che non tutti gli 11 comuni hanno ancora le sedi giusto? Non tutti ma Alcuni sono andati perse Alcuni sono state distrutte Ma ce ne sono almeno il 70% che sono attive Come a Trenno piuttosto che a Baggio A Chiaravalle milanese Chiarissimo Questa è una di quelle Virgola Ma Ma C'è una storia lunga Che dura da 15 anni Questo palazzo Che è un palazzo storico Vincolato anche dalla sovrintendenza Ai beni culturali In quanto bene artistico e storico È stato messo all'asta in vendita Presso il fondo immobiliare Milano 1 Nel 2008 Ok dai proprietari attuali Che sono? Chi? Il comune Il comune mise in vendita Segnando al fondo immobiliare BNP Paribas Ben 76 beni immobili Ok Quindi una svendita del patrimonio Molto importante Oltre a questo palazzo Anche altri palazzi Anche centrali Come per esempio La vecchia sede In via Mascagni Dell'Ampi provinciale Che fu occupata dai partigiani Fu simbolo Della liberazione di Milano Noi ci siamo sempre opposti Le tre associazioni Corpo musicale Legambiente e Ampi Abbiamo detto sempre di no E stiamo difendendo con Grande coerenza E decisione Che il palazzo Torni al demanio comunale E venga assegnato Agli associazioni Vi faccio fare una notte Un attimo polemica Su questa cosa Perché Una cosa interessante È che Queste tre associazioni Non è che hanno occupato Il palazzo Per farci le loro cose Chi vi ha detto Andate in quel palazzo E mettetevi le vostre sede Qui dentro Noi abbiamo un contratto D'affitto Forse con il comune Forse le prime rate Nel 1960 50 L'ampia L'ampia addirittura Prima Quindi interessa di vedere Come a Milano Alcune realtà Che pagano l'affitto Che sono tranquille Che sono messe lì Dal comune di Milano Cioè alcune ha detto Ho un bene Ve lo posso dare Vengono poi a un certo punto Dicendo Guarda Devo vendere tutto fuori Altre realtà Che invece occupano Magari Degli estabili Vengono poi In qualche maniera Sistemate Con una Lavata di qua E diventano Dei punti centrali Per la città E questo un po' Dispiace Perché qui abbiamo Oltretutto Oltre al vostro Lavoro quotidiano Sul territorio Avete anche la memoria Del territorio Ma la cosa Veramente grave Che è da denunciare È che noi Affittuari Paghiamo l'affitto Manuteniamo i locali Anche Giusto Quindi Facciamo opera Di conservazione E di tutela Di un patrimonio Comune Del comune Di me E dei cittadini Uno Due Facciamo attività Siamo un presidio Culturale Artistico E civile E sociale Ambientale Legambiente Fa qui attività A difesa Del martesano E dell'ambiente L'AMPI Fa attività A difesa Della memoria Della resistenza E non solo Della resistenza Facciamo Educazione civica Facciamo Riunioni Incontri Presentazione Di libri Andiamo Nelle scuole A portare La voce Degli studiosi Degli storici E dei testimoni Anche Di epoche Storiche Soprattutto Quella recente Dalla liberazione Ad oggi Quindi la costituzione E così via E abbiamo anche Del materiale Immateriale Ok Di importanza Veramente Pregevole Tanto è vero Che io definisco La nostra sede Un piccolo museo Museo Che con una parola Ormai un po' indisuso Ma che forse Quando si vedono Realità del genere Bisognerebbe davvero Rispolverare Abbiamo documenti Abbiamo due Dipinti Importanti Uno rappresenta La costituzione Della Repubblica Italiana L'altro rappresenta Un episodio Di lotta partigiana Di un pittore Realista Del milanese Che dipinse E abbiamo sottratto Che si dipindi Alla scomparsa La distruzione Perché stavano Per essere Mandati al bacio Ecco Ora direi Che da questo punto di vista C'è un aspetto strutturale Perché la narrazione Noi abbiamo tantissime Narrazioni Nella città Il problema strutturale È questo Che poi Le decisioni Vengono assunte Proprio dal 1923 A Palazzo Marino E non da questa sede È chiaro che C'è una sorta Di strabismo O di miopia Meglio Perché da Palazzo Marino Quello che si riesce a vedere Era la Milano Di nove chilometri quadrati Fino al 1872 E poi ci siamo allargati E poi ci siamo allargati A 76 chilometri quadrati È chiaro che ci vuole Un cambio strutturale Per questo è importante Anche la sottolineatura Geografico-amministrativa Di questo centenario Perché cento anni fa È avvenuto proprio questo Un cambio amministrativo Che poi porta A non vedere le cose Dove abitano però 850 mila persone 850 mila residenti Ecco Questo è poi Un'evoluzione naturale Perché se uno non vede Poi decide Senza sapere Però ci sono delle conseguenze Che diceva E narrava prima Giuseppe Natale Poi pratiche operative Perché si vanno a desertificare I territori Tenuto conto anche che Il comune di Milano E anche la regione Lombardia Sul territorio milanese Hanno centinaia Di locali Esercizi commerciali Che non sono utilizzati E anche immobili E quindi Se non utilizzi quello Metti quello in vendita Invece no Perché invece Se metti in vendita Una cosa che è utilizzata Da tre soggetti Storici tra le altre cose Ma non storici Perché sono un museo Di una volta Ma perché sono operativi Adesso E' chiaro che La città C'ha un di meno E' detto giusto Non sono il museo Di una volta Sono il museo Dell'oggi e del domani Perché è un museo Sulla resistenza Il museo Quello che è stato E quello che lampi oggi Qui è un museo Sull'oggi e sul domani Non sull'epoca Ma sai La banda di Crescenzago Volevo ricordare una cosa Noi abbiamo lì La Madonna del Ponte Sì Che è importante Del 1943 Della seconda guerra mondale Che è lì Ed è a cura Dei E' a cura Degli abitanti Di Crescenzago No? Ok Giusto? Mi dica Dicevo Milano ci sono Delle bande famose Tra queste La banda di Crescenzago Una di quelle lì Siamo Purtroppo sono rimasti In due La banda d'Afori E la banda di Crescenzago Una volta ce n'erano tante Invece fa Adesso rimaste voi due Ancora Maggior ragione Ecco perché Bisogna tenere viva La memoria Di questi luoghi E di quello che fate Cosa fa Facci capire L'importanza Del Bande Crescenzago Per Crescenzago Beh noi facciamo Almeno tre Uscite Alla settimana Alla settimana Alla settimana Sabato pomeriggio Domenica mattina Domenica pomeriggio In questi giorni Da qui a Natale Usciamo tre volte Alla settimana Perché Per Crescenzago E anche per Milano Per portare in giro La banda Perché vediamo Che è comunque Una cosa importante La banda Perché Una cosa interessante Walter Se Chi sta in centro Guarda poco La periferia E non tende tanto Ad andarci Invece Noi altri Che siamo in periferia A noi ci piace anche Andare in centro A portare le cose E quindi La banda di Crescenzago Come diceva giustamente Vresciani E non è solo Perché Crescenzago Tutta Milano Per esempio Domenica mattina Eravamo in via Gloc Vedi Adesso faremo Un concerto In piazza A Medeo d'Aosta Ecco Il 24 ottobre Per questo Aspetta Sul quadro Che stava dicendo C'è una bella Interessante Oltre a questo Che veramente Fa parte proprio Del patrimonio E della memoria Storica del quartiere Qui Qui il 25 aprile Qui il 25 aprile Reparti tedeschi Si stavano ritirando Da via Da piazzale Loreto Via Padua Per andare Andavano La sorezza Furono fermati Dai partigiani Qui c'era Una brigata partigiana Pronta A disarmarli Ad andare Allo scontro Un episodio bellissimo Il parroco Non era parroco Prete Sacerdote Che coadiuava La parrocchia Di Santa Maria Rossa Che è una Una delle Delle chiese Delle apazie milaniche Significative La apazia Venne Si fece Andò incontro Ai riparti tedeschi Il Don Bigatti Si Don Bigatti Don Enrico Bigatti Che sosteneva La lotta partigiana Fu anche incarcerato E riuscì A evitare Il conflitto armato I tedeschi I soldati Furono disarmati Pacificamente E lasciati andare Liberamente Liberamente Lì Don Enrico Dedicò Alla Madonna Della liberazione Ecco perché poi È nata l'edicola E noi ogni anno Il 25 aprile Come ampi Mettiamo la corona lì Con Sempre con la partecipazione Della parrocchia E dei cittadini Ora Noi diciamo Mi ricollego a quel che ha detto Walter Secondo me E secondo noi ormai È arrivato il momento Per cui la centralizzazione Un'annessione di 11 comuni Alla cosiddetta Grande Milano Deve percorrere Come dire Un iter contrario Cioè Un decentramento Una valorizzazione Di comunità Cosiddette periferiche Che erano comuni invece E che soffrirono Per l'aggregazione Rivitalizzare quindi Di territori Dando alle comunità Annesse alla Grande Milano Quell'autonomia Equilibrata E giusto Perché si possa governare Il territorio I nove municipi Non hanno questi poteri Di intervento Sono semplicemente Degli sportelli Del potere centrale Di Palazzo Marino Che è un'ultima considerazione Importantissima Se non Milano Arretrerà In maniera drammatica La città di Milano Non è Il comune Attuale di Milano Ma la città di Milano È l'intera area Metropolitana Ecco perché Secondo noi Occorre Rivitalizzare Un governo Sovracomunale Che è la città Metropolitana L'ex provincia E decentrare Il capoluogo Milano Allora Solo questa prospettiva Istituzionale Da riformare Noi possiamo Anche vincere Spondo la porta aperta Credo con noi Di focus periferie Noi altre Spesso e volentieri Abbiamo dato centralità All'importanza Di come i municipi Devono comunque Poter entrare Nel dibattito politico E avere anche i poteri Per fare poi Ma il problema È della gestione Del territorio Cioè Abbiamo La documentazione Chiara e evidente Notizie tutti i giorni Che sentiamo Che Da lontano Il territorio Non può essere gestito C'è un assetto Istituzionale Di vari elementi Istituzionali Che Tutti quanti Svolgono la loro competenza Ma il problema È che Non sono Questa organizzazione Non è adeguata La gestione Del territorio Non parliamo poi Quando il territorio È presidiato Dalla malavita Perché c'è anche Questo da dire Abbiamo tutte Le case popolari Dove C'è una presenza E una gestione E anche una violenza Della malavita Che va a danno Di tutti quanti I cittadini Molto spesso Anche a popolazione Anziana Allora Bisogna esattamente Riformulare Ma senza andare A escogitare Chissà che razza Di cosa Si tratta solamente Di decentrare Quella possibilità Di gestione Del territorio Ai municipi Che oggi esistono Ma esistono Da oltre 50 anni Ma sono sempre Rimasti lettera morta Perché è evidente Che dal centro Non si riesce A gestire la cosa È come se noi Volessimo Parafrasando Una situazione Commerciale Gestire allo stesso Modo Una piccola Un piccolo Negozio Piuttosto che Una catena Di supermercati È chiaro Che è completamente Diverso Quindi C'è stato un cambio Cento anni fa Organizzativo Oggi Il tema È quello di Rivedere L'organizzazione Con alcuni Aggiustamenti Perché non serve Molto Anche perché Il decentramento Alle periferie Non è Un di meno Del potere Centrale Perché il potere È un fattore Generativo Non è Se noi È come la cultura Noi se diffondiamo La cultura Mano a mano C'è una maggiore Attenzione culturale Cultura Hai detto la parola giusta Se decentriamo Il potere Abbiamo Un maggior potere E quindi Che ci consente Di gestire la città Concetto un po' difficile Ma che è fondamentale Fondamentale Cultura È detto Cultura La cultura Passa Ovviamente Tra la musica Passa soprattutto Dalla banda Che noi Andiamo in giro Portiamo Cultura Come possiamo fare Per seguire Sapere un po' meglio Quello che fate Trovare più informazioni Sulla banda Noi abbiamo un sito Sul sito Della banda Di Che Senzago Potete accedere A tutte Anche Agli appuntamenti Che abbiamo Durante l'anno Lì si può accedere Addirittura Se qualche bambino Se qualche bambino Almeno Dall'elementare In su Vuole scrivere Abbiamo aperto Anche una scuola Di musica Diciamolo tranquillamente Una scuola di musica Aperta sabato pomeriggio Per i ragazzi Diciamo Dagli 8 anni in su Ma anche 8 anni in su Significa anche 70 Giusto Per ragazzi di tutte l'età Per ragazzi di tutte l'età Ragazzi e ragazze di tutte l'età Io vorrei fare un appello finale Bravissimo Volevo fare Scusa Walter Ci rischiamiamo un attimo Lei quando Posso fare un appello Siamo alla conclusione Quindi volevo appunto Chiudere con te Giuseppe Chiedi a tutti Prima di tutto Dove possiamo trovare Un po' di informazioni in più Sulle vostre attività E poi un appello finale Sì Allora Le nostre attività come Ampi Vengono Anche noi abbiamo un sito Un sito che è molto seguito Centinaia di migliaia Davvero In tutta Italia Seguono Il sito di Ampi Crescenzaico E diamo notizie periodiche Quotidiane Non solo Riguardanti La memoria storica La resistenza Ma anche Problemi di attualità Di oggi Sul problema della guerra Per esempio La pace I diritti dell'infanzia L'ambi non è solo ricordare Solo memoria È presente e futuro L'altra cosa Abbiamo un progetto Di otto associazioni Di cui tre Sono banda Legambiente Ampi Poi ci sono altre Questo progetto Presentato Già molti anni fa All'amministrazione La quale ancora Non ha risposto Trasformare il palazzo Conservarlo bene E trasformarlo In una casa Culturale Civile Ambientale Dove si fanno Attività artistiche Musicali Si fanno corsi Si interviene Nel quartiere Ci si colleghi Con i problemi Neanche globali Globali L'ambiente Il destino Della terra E dell'umanità E quindi Un presidio Che è storico Qui nel nostro quartiere Noi siamo qui Dall'immediato Dopoguerra Stiamo conservando Il palazzo Questo palazzo Non deve essere venduto Vi dico di più E qui l'appello finale Noi siamo rimasti Molto male Dal fatto che Di fronte A un atto positivo Del Consiglio Comunale Vedete bene Una delibera Del Consiglio Comunale Di Milano L'ultima fase Dell'amministrazione Episapia Il Consiglio Comunale Approvò la delibera Nella quale Era scritto Questo Cioè le nostre richieste Venivano accolte Il palazzo Doveva tornare Al demanio Restituito al demanio Addirittura Si si E assegnato Alle attuali Associazioni Che lo manutengono In modo Reggevole Sintonica Cioè Utile anche Rispetto alla Popolazione Bene Questa delibera Queste non sono le parole Vostre Sono le parole Del Consiglio Comunale Che riconosce Nella delibera La funzione civile Culturale E sociale Delle associazioni In più Si dice anche Che Una volta che passa Al demanio Di nuovo La proprietà Deve essere Riassegnato E far diventare A noi Questo centro Questo progetto E come noi Noi siamo qua A discutere Bene Questo è stato Approvato Nel distrito Nel novembre Ancora il Consiglio Comunale Nel dicembre scorso Fa una delibera Contraria alla precedente Del 2015 Però non abroga Quella delibera E dice Mettiamo in vendita Il palazzo Di Piazza Costantino Insieme ad altri Beni Rimasti invenduti In un'asta unica A questo punto Siamo stati costretti A fare Un ricorso Al Tar Aspettiamo Dal giudice Del Tribunale Amministrativo Regionale Il risponso Secondo noi Noi abbiamo Non solo ragione Sociale Civile Eccetera Ma Giuridico Così pensate E non escludiamo Anche L'esposto Alla procura Della Repubblica Attendiamo Quindi gli esiti L'appello Che facciamo È sostenere Questa nostra Battaglia Anche giuridica C'è anche Unibam C'è Una richiesta Nostra Di raccolta Fondi Stiamo raccogliendo I fondi Chiediamo Solidarietà E sostegno Grazie Ma grazie a voi Allora Direi Walter Che da quel Di Crescenzago Possiamo salutare Chi ci ha seguito Anche quest'oggi E dare appuntamento Ai prossimi comuni Insomma Ne abbiamo 11 Da girare Quindi Perché è importante Che i milanesi Sappiano Come è fatta Milano Perché Purtroppo Non è insegnato A scuola Noi siamo davanti Al Martesana Sappiamo che esistono La Dora Riparia La Dora Baltea Perché ce l'hanno Insegnato a scuola Ma nessuno ci insegna Quali sono I fiumi di Milano Che poi Qualcuno di volta Anche esondano E infatti Tre Navigli Il Seveso L'Ambro E l'Olona Ho detto tutti Gli ho detto Io non ho inventato qualcuno Hai visto E poi Ecco Sapevo che ne avevo Sbagliato uno Ne avevo sbagliato uno Non ho studiato bene Ha ragione Ha ragione Valt Molto Giuseppe Bresciani Giuseppe Natale Grazie della Hospitalità Grazie di averci fatto Davanti E' ospitato In questa bellissima Sede Che è appunto Casa Crescenzago Quello appunto Che poi è un progetto Anche che avete In mente Come ci raccontava Natale Grazie anche a voi Che ci avete seguito Ci rivediamo Sicuramente Alla prossima puntata In un altro Comune di Milano Grazie a tutti